Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laszlo88 e mi è arrivato un pacco dalla Bottega del Nerd che per chi non lo sapesse è un sito che trovate linkato e scritto qui sotto su cui trovate un sacco di statue, action figure, prop replica e chi più in app ne metta tutti i prodotti tratti da film, serie, videogiochi e opere legate alla cultura pop ho già collaborato in passato con la Bottega del Nerd e se andate sul sito trovate anche la sezione dei prodotti in pronta consegna e ci sono veramente prodotti per tutte le tasche dalle statue più costose all'action figure più rare fino a prodotti ottimi di grande fattura ma adatti magari anche a chi non vuole spendere tantissimo e sono prodotti fantastici per fare un regalo a voi stessi oppure ad un amico o comunque a persone che bazzicano l'ambiente nerd per cui date un'occhiata perché secondo me trovate sicuramente qualcosa che possa interessarvi mi è arrivato questo pacco gigante che è composito perché qua in cima c'è una scatola scocciata che credo non abbia a che fare con quello che c'è sotto come potete notare la parte più voluminosa del pacco è separata dalla scatoletta quindi direi che possiamo iniziare ad aprire quello che c'è in cima perché grosso modo credo di aver capito cosa mi hanno mandato ma non è che so tutto tutto in realtà e comunque mi hanno accennato qualcosa ma vediamo perché sanno che mi possono sollucrare con prodotti che hanno a che fare con film vari vediamo cosa c'è qua in cima allora con molta calma estraiamo estraiamo ma è in colla che cavolo già a vedere il logo mi inturgidisco allora ok ad esempio di questo non avevo la minima idea mio dio un dioramino con la figure del tiranosauro di jurassic park con tanto di striscione che sta accadendo allora vediamo un attimo di base dovrebbe essere proprio la scena verso la fine con il tiranosauro che arriva a salvare la situazione è proprio quella eccola qua guardate con lo striscione quando i dinosauri dominavano la terra questa adesso la metterò proprio così com'è nella teca perché poi si può estrarre come potete vedere perché c'è la plastica però francamente fa ve lo faccio vedere fa anche la sua porca figura così si può estrarre vedete il tiranosauro si toglie dalla base però si può anche mettere vediamo com'è senza la plastica ecco così senza tutta quella plastica ok così se lo volete esporre senza teca altrimenti si mette senza problemi la teca così come la prima e per esporlo secondo me fa la sua gran figura a me queste cose piacciono da morire perché è una sorta di diorama in miniatura trovate il link per acquistarlo in descrizione non costa neanche tanto vado matto per questo per questo tipo di cose peraltro poi jurassic park è un film che ha caratterizzato assolutamente la mia infanzia quindi figuratevi quanto posso essere contento di ricevere una cosa del genere ma veniamo alla parte più cicciosa del pacco allora sono tre scatole diverse che cos'è vabbè quanto cazzo sono lunghe guardate che roba che poi uno 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 non deve infartare capito mamma gesù ok allora katana signori ma non una katana qualunque perché sarebbe troppo facile mamma mia oddio io sto già mi sto già salivando all'idea di esporle mamma mia ma no con calma ragazzi ragazzi no stiamo molto calmi katana di attori anzo guardate il simbolo non so se si vede penso di sì ovviamente senza filo queste non vanno affilate sono sono da esposizione katana di attori anzo osservate un po come fatto il manico guardate che roba dio mio poi ovviamente il link ai prodotti li trovate in descrizione come ad esempio anche il t-rex ma questo è veramente spettacolare ok da kill bill perché c'è il ovviamente il il fogliettino non che ci volesse perché l'ho riconosciuta subito allora altro guardate attenzione qua avete quel singillo qua e vediamo un attimo ok questa è la katana della sposa quindi quella di beatrix come vedete c'è anche qua il il bigliettino e quindi questa è spettacolare ma ovviamente non è l'unica che mi è arrivata poi attenzione nella scatola c'era anche un'altra scatoletta con per l'appunto la base su cui esporla quindi la classica base su cui voi appoggiate la katana ma la cosa interessante che anche la base a vedete la la scritta di attori anzo questo è molto carino e mi è arrivata anche la katana di bill attenzione qui sono la katana della sposa e la katana di bill perfetto come possiamo vedere anche dal diavoletto disegnato qua molto bene questa è spettacolare sono bellissime esteticamente molto simile all'altro ovviamente perché sono le spa di attore anzo sono simili ma vengono per appunto distinte dai simboli che ci sono sulla custodia come potete vedere vi faccio vedere la differenza quella della sposa ha questa effigie incisa come potete vedere eccola quella di bill invece ha il diavolo per cui sono diverse ma anche se non sbaglio dal sigillo è uguale sono sono vedete i simboli il simbolo è differente poi sono simili anche nel nel colore nei colori ovviamente e poi c'è anche questa credo che sia quella dovrebbe essere in teoria quella di bad se non erro vedete il simbolo è questo qua e anche questa ecco qua si è quella è quella di bad per un motivo molto semplice ve lo posso confermare perché non me l'aspettavo to my brother bad c'è sostanzialmente non so se si vede forse incontro luce ma c'è l'incisione to my brother bad the only man i ever loved bill quindi è l'incisione che bill fa mettere sulla spada proprio per dimostrare l'affetto che nutre nei confronti di suo fratello e che non è mai riuscito ad esprimere a parole diciamo quindi come si fa a non gioire quando ti arriva una roba del genere obiettivamente io penso che sia qualcosa di stratosferico proprio a livello anche di esposizione ora bisogna avere spazio perché sono voluminose però arrivano con la base quindi le puoi tranquillamente mettere su una mensola anche perché le catane non sono come altre spade che puoi appendere mettendo magari i chiodi su cui appoggiare la croce dell'elsa non avendo una croce dell'elsa per cui è adesso posso fare tra l'altro qui c'è anche il crossover perché posso fare una roba alla loro no a zoro volendo c'è capito con le tre catane tra l'altro non avete idea prese tutti e tutte tre insieme quanto siano dannatamente pesanti per cui oggi pacco ricchissimo perché da una parte abbiamo il dinosauro il t-rex di jurassic park dall'altra abbiamo le catane che peraltro proprio anche a livello di lama secondo me sono spettacolari ovviamente non è affilate quant'altro però guardate anche il livello di dettagli le onde che ci sono sulla lama cioè è veramente curato sono delle per io poi vado pazzo per le proprie replica cioè a me le replica degli oggetti e quant'altro fanno impazzire vado fuori di testa quindi non posso essere più soddisfatto di così per cui ringrazio la bottega del nerd per tutto questo ben di dio per cui probabilmente mi riprenderò l'anno prossimo nel senso che io quando vedo quando mi arrivano queste cose qua impazzisco e in descrizione trovate i link per acquistare i prodotti che vi ho mostrato ma date anche un'occhiata al catalogo in generale perché secondo me vale assolutamente la pena quindi io vi ringrazio infinitamente e noi ci vediamo al prossimo movie blog ciao a tutti ciao a tutti